Ore di campione pieno di energie Il sport di Ceno Game ci porta in una nuova dimensione Con passione e coraggio siamo pronti a brillare E Studio 7 e TV ci guida ad ogni passo Ad ogni sfida da affrontare Con orgoglio e con onore siamo pronti a dare il nostro meglio Con Pietro come guida Il nostro spirito non si rende mai Sport di Ceno Game e Studio 7 e TV L'intervista di Pietro, un cuore di un campione Ogni atleta ha una storia, ogni momento è un'emozione Con coraggio e con determinazione Studio 7 e TV e Sport Piceno Game presentano L'intervista di Pietro, ospite della puntata Benvenuti alla nuova puntata Abbiamo ospite una giovane doppiatrice Non solo doppiatrice con la voce ma anche col cantato Carla Lanzetta A questo punto la prima domanda che ci viene spontanea Se dovessi descrivere chi è Carla A chi non ti conosci, come la descriveresti? Allora, prima di tutto Prima di essere una doppiatrice, una cantante, un'attrice Sono una normalissima ragazza Molto solare, energica, determinata Quello tanto Che fa una cosa che ama Ossia il doppiaggio, la recitazione, il canto Fa quello che ama Mi descriverei così Poi mi descriverei che amo leggere Amo lo shopping follemente Amo scrivere a mano Quindi amo comprare quaderni Con quadernetti, penne, evidenziatori Chi più ne ha più ne metta E questo direi Così Quando nasce l'idea da passare da attrice, da attore Perché l'attore bisogna studiare per essere attore A specializzarsi nel mondo del doppiatore Quando ti nasce questa idea Soprattutto quando poi la sviluppi Allora, io come penso tutti i doppiatori dicano Un doppiatore è un attore Semplicemente mentre l'attore può creare Può avere i suoi tempi Le sue intonazioni Può creare come vuole Un doppiatore deve seguire un attore Che ha già creato Quindi noi doppiatori siamo al servizio Di un altro attore Però fondamentalmente siamo attori Ci sono delle differenze? Sì, sicuramente Perché per esempio nella recitazione teatrale Bisogna portare la voce Bisogna avere tanto volume Mentre al doppiaggio il microfono percepisce tutto E quindi bisogna avere una voce Dare poca voce Quindi lì si studia nel doppiaggio La recitazione nel senso di mettere le intenzioni Con molto meno volume Però di base un doppiatore è un attore E un attore se si studia le tecniche del doppiaggio Può essere tranquillamente un doppiatore Quelle poi sono scelte Perché molti attori Gli attori puri di teatro Anche oggi che si sono formati Con Gasman Cioè vengono proprio dal teatro pesante Sono un po' contro il doppiaggio Perché ritengono che I doppiatori dicano solamente parole Con una bella voce E delle belle intonazioni Mentre non è così Cioè è molto di più Ognuno apre il proprio cuore Quando comunque doppia Ci mette un qualcosa Che rende indimenticabile un personaggio E in alcuni video precedenti Presenti su YouTube Ricordavi un pochettino Quei insuccessi dei provini Che cosa però ti rimane Dei primi provini E poi nel tempo sono aumentati Tanti E chiaramente ci sono Sicuramente anche risultati positivi Perché non sempre Poi non è detto che bisogna avere Bella voce o brutta voce Ma bisogna farsi distinguere Per il personaggio Assolutamente Non esistono belle e brutte voci Esistono voci più o meno fonogeniche Quindi che il microfono capta Diciamo Però tutte le voci servono Da quelle belle a quelle brutte Diciamo Cosa mi resta dei primi provini Allora Devo dire la verità Mi resta tantissimo Perché anche i primi Soprattutto che sono andati male Mi hanno fatto capire Cosa dovevo migliorare E soprattutto mi hanno fatto capire Che volevo davvero farlo Perché secondo me Quando una persona diceva Un grande no O tanti grandi no Ma continua Persiste E non molla Secondo me capisce Di volerlo fare Veramente Cioè Secondo me Fallire Dei provini Almeno una volta Nella vita È sano Perché quando Cadi Ti rialzi Capisci che lo vuoi davvero fare Se non ti rialzi Vuol dire che allora Non era la strada giusta per te Quindi a me dei primi provini Resta questo E resta che sono cresciuta Con quelli Perché mi hanno fatto capire Cosa dovevo Migliorare Piuttosto che fare Cioè fare un provino Dove Sì magari Non sei bravissimo Però in quel momento Servi tu E uno ti dice Ah va bene dai Prendiamo lei Perché più o meno Ci sta Sì Va bene Perché comunque Uno lavora Ottiene L'ingaggio Però Non si migliora Mentre Non ci si completerà mai In questo mestiere Perché la perfezione Non esiste Ma l'eccellenza Sì E questa sticella Dell'eccellenza Si può alzare di volta In volta E quindi bisogna Misurarsi con le sfide Quindi Ogni provino Secondo me Va sempre fatto Perché so di molti Che magari dicono Oddio no Ma non sono all'altezza No Non posso farcela Invece no Vanno assolutamente fatti Perché è una sfida Contro se stessi Se poi non va Uno dice Ok Devo migliorare questo Però Mai mollare Invece La prima sensazione Che hai avuto Quando al primo Proino Perché poi Ce ne sono stati altri Ma il primo Proino Ti hanno detto Ti hanno guardato E detto Ok La parte tua O il personaggio È tuo In quel caso In quel momento Non saltando In gemma Comunque Va da dentro Che cosa hai provato In quel momento Beh Allora Sicuramente Io sono molto Particolare Perché io Appena mi danno Una bella notizia Ho un entusiasmo Pazzesco I primi Cinque secondi Dopo cinque secondi Inizia tutta Una tiritera Mentale Oddio Sarò all'altezza Oddio Cosa succede Oddio No Ma lo guarderanno Loro Oddio Resta per sempre No Mi vedranno Mi sentiranno Oddio Cioè Quindi Sono super contenta Però poi inizio a farmi Tanti problemi Però quando poi Si inizia Il lavoro E ci si immerge In questa avventura Passa tutto Perché poi Soprattutto in questo mestiere Il lavoro di gruppo È fondamentale Per me Quindi ogni volta che Lavoro Devo dire la verità Mi sono sempre sentita A casa Sempre In una grande famiglia Ecco Quindi sì La mia reazione È sicuramente Contentissima Però Insomma Sento tanta responsabilità Questo sì E La prima volta Del leggio Per una Una scena Una riga Importante Comunque Qual è stata La tua reazione La tua sensazione Perché poi Alla fine Poi uno si dimentica Che nel tempo Facendone tante Dirighi Tanti personaggi Si scordano Però qual è La tua Che cosa ricordi La prima sensazione Del primo Ciac Che è la prima luce Che si accende È il primo segnale Che ti dice Ok Allora Farà molto ridere Questa cosa Allora Quando mi hanno dato La notizia Io ho pianto Ho pianto Cioè proprio La gioia I pianti Prima di entrare In sala Sono andata Alla pasticceria Di fronte E mi sono presa Due vignè E infatti Mi ricordo Che c'era Un altro mio collega Che fa Ma ti stai mangiando Il vignè Prima di parlare Ma tu sei una pazza E da lì Mi è iniziata A salire l'ansia Perché ho detto Oddio Che cosa ho fatto Perché non avevo Fatto colazione E quindi dovevo Dovevo carburare E quindi da lì Mi è salita Molto l'ansia Ho detto Qui finisce male Lo sento Accadrà qualcosa E Bello Sento che sta Grandinando Fuori casa mia Bello in tutto ciò Ho iniziato a sentire Questo rumore È molto rassicurante Bello E Quindi sì Ero Avevo Stavo Realizzando Che la mia voce Sarebbe stata incisa Per sempre Cioè Io ho realizzato Quando sono entrata in sola Che stavo per fare Un qualcosa Che sarebbe rimasto Per sempre Che per sempre Rimarrà E che chiunque Potrà ascoltare Quindi Avevo Ansia Responsabilità Cioè il primo turno Di tocchiaggio Una persona Lo avverte Già al secondo turno Ero Stracalma Strarilassata Stratutto Però no Il primo turno Non si scorda mai Sei felice Sei preoccupato Hai responsabilità Non sai cosa accadrà Non sai cosa Doppi Perché il doppiatore Non sa cosa doppia Noi non studiamo A casa Noi andiamo Una volta si vede E la seconda Già si incide Quindi Uno dice Oddio Ma mi capita Ma mi capita Una cosa difficile No mi capita Una cosa difficile Lo so Però Poi dal secondo turno Diventa tutto così Però io perlomeno Ogni cosa che faccio La tengo nel cuore Perché penso Sia importante Fosse anche una riga Fosse anche Un fiato Resta E invece Hai mai assistito Qualche prima Di intraprendere Riuscire a partecipare A qualche seduta Di doppiaggio Di tuoi colleghi Perché ultimamente Negli ultimi anni È stato un po' difficile Entrare nelle sale Assiste Per il problema Ma prima il covid E poi i diritti Di autore E poi la privacy E poi Sei riuscita mai A partecipare Ad ascoltare Cercando di Poi capire Osservando con gli occhi Osservando Ascoltando con le orecchie Ciò che Loro stavano facendo Per poter Anche crescere Autisticamente Assolutamente sì Io prima di fare Il mio primo turno Di doppiaggio Ho assistito Due mesi Stavo dieci ore al giorno Con la direttrice Con cui poi Ho iniziato a fare I miei primi turni Quindi sì E quella è stata Una grande scuola Perché Stando due mesi Ad assistere A vedere Come si faceva Questo mestiere Oltre ad aver Studiato prima Questo sicuramente Però mi ha Reso consapevole Dei tempi Che bisogna avere Di come bisogna Entrare in sala Dell'approccio Che bisogna Avere Cosa guardare Quando si guarda Una scena La prima volta Soprattutto Perché la scena Una volta si guarda E poi si prova Quindi bisogna guardare I fiati Gli occhi Dell'attrice Come dice quella battuta Si muove Sta respirando È in primo piano È in campo lungo Cioè bisogna guardare Una serie di cose Però giustamente Se non si va sul campo Non si impara Questo purtroppo Va detto Uno può fare Le scuole Che vuole Ma fin quando Uno non entra in campo Non si rende conto Questo va detto E quindi mi ritengo Fortunata Hai mai lavorato Con più persone Oppure Continuo a essere A seduta singole Slot singoli Allora I brusini Io perlomeno Li faccio insieme Quindi Si fanno anche in sei Sì ricordo Sì In cinque Sei I brusini Si fanno insieme Poi tutte le altre cose In colonna separata Quindi si sta da soli A leggio E il personaggio Che comunque Pino ora Che hai fatto Che ti rimane Un poettino dietro Perché È stato O il primo O comunque Quello che Ti ha dato Più difficoltà O meno difficoltà E ti è rimasto Più simpatico Oppure più antipatico Che hai fatto Allora Io Non ho Antipatie O simpatie Per quelli che ho fatto Ma io ho antipatie E simpatie Per le frasi Che devo dire Mi ricordo Era il secondo turno E io dovevo dire Presto Insegua la donna Con il Con il fermaglio rosso Io ricordo Che per me È stata bruttissima Da dire Quella frase Era una ragazza Che in una Parata Insomma C'era un inseguimento Una cosa Era una commedia Romantica Diciamo Lei Presto insegui la donna Con il fermaglio rosso È stato Io mi ero bloccata Su quella frase Quindi più che ricordare Quel personaggio Ricordo Con antipatia Quella frase Che proprio Non mi usciva Fermaglio rosso Cioè mi ero proprio Incartata Quindi Mi diverte Fare tutto Diciamo Quindi Questo Non ho Non ho ancora Fatto cose Ecco Spero di fare cose Sempre più importanti Ecco Questo Devo dire Ambisco A fare Delle cattive Sì Ambisco A fare Delle cattive Non ho fatto Personaggi cattivi Sempre fatto Voci Voci molto Leggere Tipo Posso avere Un caffè Mai visto Quello Ragazzo Che bello Cioè tutte voci Comunque Non da principessina Però voci Da ragazza Mentre vorrei fare Un qualcosa Di più pesante Sì Decisamente Oltre che Sai anche Cantare Quindi Alla voce Per cantare Hai Sfruttato Questa Dote Ancora Non Non Sfruttato Al meglio Questa Dote Il poter Cantare Ah Bella domanda Allora La sto Sfruttando La sto Migliorando Sicuramente Perché poi La voce Non si Finisce Mai Di Scoprire Cioè Ogni Volta Uno Dice Ma vedi Che so Fare Questa Cosa Ma che Figo Ma che Bello E Quindi Per quello Che posso Fare Penso Di Di Sfruttarla Per adesso Per quello Che ho Imparato Però sicuramente Come obiettivo Quello Di Sfruttarla Di Più Quindi Diciamo Dai Un buon 50% Dai Voglio Fare Ancora Di Più Il Consiglio Che ti ha Dato Un Direttore Di Oppiaggio Un Collega Nel Nel Lavoro Che poi In fondo Te lo porti dietro Perché O Il tuo Insegnante Perché Poi Hai detto Tu Non si Non si Ma Imparare Che Ti porti Dietro Comunque Ti ha Permesso Anche Di Crescere Artisticamente Certo Assolutamente Sì Mi è Stato Detto Non Me Lo Dimenticherò Mai Mi Venne Detto Avevo 16 Anni Più O Meno Tu Puoi Fare Questo Mestiere Però Devi Lasciarti Andare Devi Aprire Il Tuo Cuore E Devi Mettere Da Parte La Troppa Tecnica E Da Lì È stata Una Rivoluzione Per Significava Dirla Non Provare Niente Non Regalare Niente E Invece Sì Questo Consiglio Mi Ha Smosso Perché Comunque Poi L'età Era Quella Che Era Cioè Nel Senso Ci Vuole Anche Poi Un po' Più Di Maturità Proprio Di Vita Secondo Mi Di Esperienze Che Uno Vive A livello Artistico Ma Persona Non Vive La Vita Non Vive Le Emozioni Poi Non Sa Di Cosa Raccontare Che Sia Il Dottiaggio Che Sia In Teatro Che Sia Il Cinema Che Sia In Qualsiasi Forma D'arte Però Sì Questo È Il Mi 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 Smosso Cioè Mi Ha Fatto Capire Che Davvero Potevo Farlo Perché Troppo Non Sempre Viene Detto Anzi Cioè Seppure Uno È Bravo Non Lo Dicono Dicono Ok Dai Va Bene Cioè Tendono Sempre A notare Le cose Negative Il Ragionamento Tecnicamente Perfetto Ma La Recitazione Piatta Invece Ti È capitato Di Passare Nelle Sale Ascoltare Qualche Tuo Collega Che In Mondo Dici Siamo Cresciuti Tutti Con la Televisione Con il Cinema E Dire Oddio Quel Personaggio Mi Ricorda Tanto La Mia Infanzia Comunque Quando Era Più Bambina A quel Punto Ti È Venuto Il Sorriso Di Mi Giri Ti Guardi E Poi È Un Collega Indistintamente Ti Vorrebbe Dire Chiamarlo Per Il Nome Del Personaggio Non Tanto Per Il Nome Del Sua Persona Ti È Capitato O Ci Hai Pensato Sì Quando Sento Le Voci Della Mia Infanzia Io Proprio Vedo Il Personaggio Io Non Vedo Più Loro Vedo Proprio Il Personaggio Per Per E Per Io Ho Studiato E Sto Ancora Studiando Faccio Gli Allenamenti Alla Boys Hard Dubbing Che È Una Scuola Di Doppiaggio Che Ha Sede A Roma Napoli Catania Bari E Tra Gli Insegnanti C'è Maria Pia Di Meo Che È La Voce Di Meryl Streep Di Barbra Streisand Di Mille Però Ogni Volta Che Io La Sento Parlare Io Vedo Meryl Streep Cioè Ogni Volta Io Non Riesco A Vedere Lei Io Vedo Proprio Ogni Personaggio Di Meryl Streep Per Dire Che È Comunque La Mia Infanzia Perché Sono Cresciuta Con Tantissimi Film Quindi Sì Assolutamente Sì Soprattutto Quelle Voci Dei Personaggi Che Restano Nei Cuori Di Tutti Come Shrek Renato Cecchetto Anche È Stato Uno Degli Insegnanti E Una volta Che Lo Sentivi Vedevi Shrek Cioè Proprio Una Voce Sì La Voce Dell'infanzia È È Stato Come Per Noi Quando Abbiamo Ascoltato Per La Prima La Mazzotta Che L'audio Non C'era L'audio Ma Non Si Vedeva Il Video Io A quel Punto L'ho Chiamato Eros E Lui Mi Ha No No Vende Sono Mazzotta Scusami E Mi Sono Confuso Perché Mazzotta E Eros Sono La Stessa Cosa Quindi Siamo Cresciuti Con Pollon Con Classy Clown Quindi E Poi Dicevi Voci Particolari Sotta E La Chiara Espezione Il Puffo Quattro Occhi E Tanti Altri Personaggi Ha Fatto Anche Se Per Oggi Col Pollicamente Corretto Qualcosa Dove E Invece Pensare All'intelligenza Qui Ultimamente Spopola Quest'idea Dell'intelligenza Artificiale Almeno su un canale televisivo Gratuito È stato fatto un canale con solo voci e doppiaggio artificiali Inascoltabili Però Esiste Quanto effettivamente può essere un danno O un vantaggio per il popolo Che vede la tv O vede lo schermo del pc? Allora Vantaggio sicuramente no Perché È intelligenza Artificiale Noi siamo esseri umani Abbiamo tante sfumature Abbiamo Tante cose Che nessuna macchina Ci può restituire Quindi Io Sono Contraria Come tutti Ma non perché Devo lavorare io Ma proprio perché Non Un film Qualcosa Non Ti arriva Non ti restituisce Quello che L'attore ha fatto Se c'è una voce Tipo Siri Una voce piatta A parlare E a dire parole Quella non è più Recitazione Non è più arte Ma è veramente Un aggeggio Artificiale Quindi Sono veramente Contraria È un pericolo Per noi doppiatori Posso dire Sì Quanto No Cioè Nel senso Dobbiamo Sono I doppiatori Dobbiamo essere noi Bravi a dimostrare Che siamo Insostituibili Questo dipende Anche da noi E A questo mondo Noi Dando ti ringraziamo Che sei stato ospiti Perché Grazie a voi Ci hai raccontato Anche la tua visione Del mondo E doppiaggio Quindi No 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 Come si dice Nel mondo del teatro Merda 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 Grazie Noi siamo rimasti Ancora quel vecchio Merda 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 Anche io E quindi Forse coraggio A questo punto Ci mancano Soltanto una cosa Fondamentale I tuoi saluti Finali Allora In che modo Posso salutare Sì Tu Guarda Hai Piena Hai carta Bianca Vedi Hai il copione Davanti A proposito Una curiosità Prima dei saluti Cosa ti rimane Della trasmissione Di con Ciliano Visto che sei stata Ospite E hai fatto Pure una recitazione Con Un Oltre che a Ciliano Hai avuto Un insegnante Lì che Ti ha dato Dei consigli Cosa ti rimane Di quella trasmissione Con tanti altri Tui colleghi Giovani Mi rimane Tanto Allora Inaspettatamente Cioè lo dico Ero l'unica donna Infatti ero Molto Perché Cioè di solito C'è una competizione Femmire Da far paura Quindi questa cosa Mi ha molto sorpreso Ehm No Mi resta tanto Perché Veramente Gli altri tre Ragazzi Sono Molto bravi Quindi Ho sicuramente E rubato Da loro Dei fiati Delle intonazioni Delle pause Dei toni Insomma Ho sicuramente Rubato Da loro Tanto Ehm C'era Leslie La penna Che insomma Mi ha dato Dei consigli preziosi Io Stimo tanto Leslie Io l'avevo Lo vedevo Negli stabilimenti Di doppiaggio Però Non avevo Non mi ero mai Avvicinata A lui Quindi sono stata Contenta Che Mi sia stata data Questa Questa Possibilità Ehm Sicuramente Ha detto Una cosa giusta Comunque Di Anche lui Aprire sempre Il mio cuore Sì La tecnica Ma Metterci Quel Qualcosa In più Che è dentro Ognuno di noi E a questo punto Aprendo la voce E facendo Quella ginnastica Respiratoria Che si insegna Nel Nel doppiaggio Ti chiedo A questo punto I saluti finali Allora Saluti finali Allora Vi ringrazio Tantissimo Per avermi Ospitato In questa Trasmissione Auguro il meglio A questa Trasmissione E ringrazio Ho detto Trasmissione Non so Quante volte Bene Questo è Un bellissimo Segno Ehm Mando un grande Saluto a tutti voi Che avete seguito Il programma Avete seguito L'intervista Spero di aver detto Delle cose intelligenti Spero di aver detto Delle cose affascinanti Che Chissà Vi possono aver Appassionato O incuriosito Sul mondo Del doppiaggio E quindi Di avervi dato La possibilità Di conoscere al meglio Questa categoria Non sempre Conosciuta E vi mando Un bacione enorme Studio 7 TV E Sport Picciano Game Hanno presentato L'intervista di Pietro Ospite della puntata L'intervista di Pietro Ore di campione Pieno di energie Il Sport Picciano Game Nel studio 7 TV Nel studio 7 TV L'intervista di Pietro Un cuore Un campione Ogni atleta Una storia Ogni momento Un'emozione Con coraggio E con determinazione L'intervista di Pietro